Sanità Veneta, Luca Zaia propone la ricetta del futuro con l'azienda unica. È l'ultima generazione della gestione a centrare tutto in un'azienda, ma siamo gli unici a poterlo fare, abbiamo costruito un percorso di legge che farà gli acquisti e farà in modo che le protesi all'anca costino uguali per tutti negli acquisti, le risonanze, le TAC, insomma una unica realtà. Non solo, anche possibilità di prenotare visite ed esami e ritirare referti in farmacia e un CUP regionale centrale. Questo vuol dire che diamo modo al cittadino, che so deve farsi una risonanza, di sapere i tempi di attesa ma in tutto il Veneto, perché qualcuno potrebbe decidere se ha un'urgenza o vuole togliersi un dubbio di farlo velocemente, magari uscendo dalla sua usla di appartenenza e andando in un'altra usla. Ancora, cure odontoiatriche gratis per chi non ha possibilità economica e ticket non più a pagamento. C'è la possibilità di azzerarlo se si adotta un nuovo modello, stiamo lavorando su questo modello, ovviamente dovrà essere approvato nel momento in cui lo renderemo pubblico dal Ministero dell'Economia, che deve autorizzarci, visto e considerato che stiamo parlando di 200 milioni di euro. Ed ha indicazioni anche in merito all'attività del Direttore Generale delle varie ULS Venete. Ogni settimana, una giornata, il Direttore Generale deve dedicare a ricevere i cittadini, e le cittadine che hanno qualcosa da dire della sanità della loro città. Il pubblico io lo incontro, non capisco perché non lo posso incontrare un Direttore Generale.